Vi aspettiamo sabato 13 luglio per il cammino da presa a Vena. Cammineremo sotto lo sguardo di Maria che qui in questo bellissimo santuario di Vena ci attende. Un cammino di speranza, è proprio questo il tema, colorati di speranza. Perché ci possa essere un mondo migliore ma soprattutto la tua vita possa essere più bella e possa risprendere della sua luce.